Ciao Stefano. Ho fatto saltare il bancomat della banca Unicredit situato in via Marte della Libertà Valperga. I malviventi hanno agito nella notte di sabato 2 dicembre intorno alle 2 e mezza. Un colpo ad effetto messo in atto in una manciata di minuti. Il vicinato ha sentito il forte rumore ma quando si è affacciato non ha visto nulla. I ladri hanno quindi avuto il tempo di raffare il bottino ancora da quantificare e scappare. L'allarme è scattata alla sicurezza Italia che ha allertato i carabinieri e giunta sul posto ma ormai i malviventi sono già dileguati. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e ora sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Il primo è il primo è il primo. Grazie a tutti.